Quattro itinerari tra la natura per conoscere in Molise le ricchezze legate alla produzione di olio di oliva. Termoli, Santa Croce di Maiano, Venafro e Poggio Sannita sono stati inseriti nell'evento italiano Camminata tra gli olivi. Storia, paesaggio, alimentazione e percorsi nella natura. 121 città di 18 regioni parteciperanno nell'ultima domenica del mese all'evento nazionale Camminata tra gli olivi. Alla scoperta del patrimonio olivicolo della penisola. Per in Molise aderiscono all'itinerario tra gli olivi Termoli, Santa Croce di Maiano, Poggio Sannita e Venafro. Il percorso scelto per la città di Termoli si trova sulla provinciale 51 in direzione di Petacciato. A partire dal mattino si potrà visitare l'oliveto di un'azienda agricola del posto, avvalendosi della guida di un agronomo che illustrerà le caratteristiche degli alberi e le proprietà benefiche. Per la salute dell'uomo date dal consumo di olio d'oliva. La Camminata è un'occasione per ristabilire un legame tra cittadini e la terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire la cultura enogastronomica del paese e i luoghi di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. A Venafro invece il parco regionale dell'olivo è la prima area protetta e dedicata all'olivo unica nel suo genere nel Mediterraneo. Conserva la millenaria tradizione dell'olivicoltura conosciuta già dai romani. A Poggio Sannite immersione nel paesaggio locale dove gli olivi sono coltivati fin dal 1600 e a Santa Croce di Magliano una passeggiata nella cultura di un piccolo territorio dalla tradizione importante e piante secolari.